ciao a tutti ragazzi e bentornati qui in un nuovo episodio della skyblock allora questo sarà il secondo episodio perché ho avuto problemi e non mi ha registrato tutti gli altri tre episodi che ho fatto ok cominciamo bene stiamo distanti dall'enderman anzi se riusciamo a portarlo di sotto allora ho fatto un grinder molto efficiente con il one kill tantissima esperienza funziona veramente bene poi ho fatto un occhio dell'ender fatto una farm di polli una farm di cactus qui ho iniziato a fare l'uovo del maiale per far la farm anche che devo generare nuove uova ho fatto il portale del nether sono già entrato per vedere adesso devo prendere finiamo la missione andando a prendere la nether track quindi ci facciamo subito un piccone al volo eccolo qua questo il metto lo mettiamo qui a cuocere allora qui altre robe ho fatto un po il colorante ho fatto ferro sono andato un po avanti vi faccio vedere no questo qua allora ho trovato ucciso un enderman quindi ho sbloccato il monster place l'ho fatto tutto obsidiana ho fatto l'ossidiana avevano già fatta adesso devo far andare nel nether e prendere la nether track ho creatato una blaze road trasformandola in blaze powder e ho fatto un ender eye ho creatato un'armatura in pelle ho creatato del carbone dell'oro e dei lapislazuli mi mancano solo i diamanti qui sopra ho finito di craftare tutta zucca e tutta quella roba lì devo fare uno stack di tutto poi devo craftare una testa una stella del nether l'elite altri detto vabbè devo fare lo spawn egg di ogni animale mi manca cosa che ho fatto la pecore che non mi ricordo come si fa e andiamo a vedere allora ecco eccolo qui 8 di lana e un uovo come la lana come a te con le stringhe e infatti 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 ci sono le stringhe quindi oggi ci portiamo a casa due obiettivi quindi aspettate messo incastrato andiamo nel nether prendiamo a nether track questo posso pure rimuoverlo che tanto è stato il meccanismo per accendere il portare con la lava perché non avevo ancora il flint quindi no 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 zio 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 stammi no zio distante non voglio farti del male porca miseria ma sono ancora incavolati con me ma dai ma non è giusto ah raga no 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 ci muoio 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 porca miseria raga il libro ora che il libro il libro il libro il libro non me ne ha dato un altro ma io adesso come ci torno alla sala spero che posso recuperarlo state scherzando dai morendo dovrebbero despawnare che cacchio spero che non mi stanno seguendo altrove cosa vuoi dai basta basta lasciatemi in pace oh raga ma tutti ce l'hanno con me tutti tutti e adesso tutti anche quelli che non ce l'avevano con me ce l'hanno con me ma non è giusto ma porca miseria adesso che ci si mette pure il ghast ecco adesso ci muoio un'altra volta sicuramente eccolo lì a fa un bagno c'è raga ma adesso come faccio se non c'è neanche il libro ragazzi adesso sinceramente non so più come tornare c'è raga adesso che cavolo abbiamo questo piccolo problema ok dovrebbero essersi tranquillizzati no proprio per niente sto morendo nella lava che cavolo c'era raga ma non è possibile dai cioè dai il libro l'ho perso come no 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 raga allora cavolo hai imparato come salire sti qua allora non devo colpirle ma per quanto tempo devo c'è niente raga lo se non sbaglio dovrebbe vedersi mi ricordo più dove ma si vedeva aspettate come finca ha reso distanza c'è ancora mettiamo un attimo ha fatto c'è raga vedete dov'è che c'è io devo andare fin là in fondo per poter sperando che poi si possa entrare no perché se no se non mi ha dato un libro perché non è caduto e questo episodio volevo finire un po' di emissioni ma mi sa che sarà un po' problematico adesso quando attaccherà far buio qua sarà un incugo sarà pieno di mob e robe varie cioè non può finire così queste serie dai ho fatto due episodi perché gli altri si sono cancellati e finisce pure male dai dai in teoria sono riuscito a arrivarci come cioè è stato un casino assurdo adesso non so svuoto un attimo il secchio d'acqua qua questo secchio posso anche non so ributto dai cioè no comunque ho fatto devo migliorarlo perché rischia sempre di crepare però adesso almeno sono riuscito ad entrare praticamente come vedete ho fatto una vasca io mi lancio dentro da lì passo al di sopra dei blocchi invisibili entro dentro la stanza premo il pulsante e ritornare alla stanza ricettario e mi riporta lì poi tramite il pulsante riesco a teletrasportarmi sulla mia isoletta quindi abbiamo risolto il problema del libro dai probabilmente le morti aumenteranno finché non allargo la piattaforma però va bene così non chiedetemi far the dropper perché sicuramente non ce la farò a portarlo neanche all'inizio perché è un casino assurdo cioè sto rendendo conto che per centrare questo quadrato che era un 6x6 io ho fatto così track scendo prendo qui e ho tutte le ricette e non ti dice come si magari non so se si può ricraftare il libro boh vabbè niente poi io da lì arrivo qui qui premo qua e ritorno qua qui abbiamo risolto il problema del libro allora cosa dovevamo fare? non mi ricordo già più ormai ah sì la storia è quella delle lane dell'uovo allora chiudete possiamo prendere un po' di uovo entriamo usciamo prendiamo la lana due di qui un po' di string erano qua ci facciamo altri blocchi di lana ok a posto raga questo episodio non si è riuscito a fare niente mi dispiace però dovevo risolvere il problema del libro cioè è stato uno shock comunque dai facciamo così questo episodio un attimo lo termino qua perché sennò c'è un'eternità adesso costruirò un recinto farò altra terra allargerò un po' tutto qui ci sono altri cactus che posso prendere però posso fare così e ripiazzare il blocco faccio così e ripiazzo il blocco faccio così e ripiazzo il blocco faccio così e ripiazzo il blocco piazza blocco ok dai no questa cosa del libro proprio non me l'aspettavo perché la prima volta me l'ha ridata non pensavo che pensavo che me lo ridesse sempre in realtà no vabbè pazienza non posso farci niente comunque abbiamo risolto il problema c'è raga guarda dove ho piazzato la zucca l'enderman resta lì quella punto e fine niente per questo episodio è tutto vi ricordo di condividere iscrivervi lasciare dei like e io vi lascio con un saluto elettrizzante ciao iscriviti al canale grazie a tutti